Va in archivio la prima edizione della 3 contro 3 Summer Edition, manifestazione partita venerdì nei pressi del parcheggio del mercatone di Avellino. Tante le squadre che si sono date battaglia in campo nella tre giorni di sport, divertimento e soprattutto tanta abnegazione. Chermessica ha visto la presenza di alcune figure di spicco della palacanestro Irpina e Nun, tra cui il capitano della Delfe Saverino Alessandro Marra o l'ex cestista della Scandone Antonino Sabatino. L'iniziativa ha visto anche la partecipazione del comune di Avellino con il sindaco Gianluca Festa, ex cestista, in prima fila insieme all'assessore Stefano Luongo. Torneo che può dirsi un punto di partenza per il movimento della palla spicchi cittadina e provinciale. E non solo, tanti si sono avvicinati a questo mondo per curiosità o semplicemente per toccare da vicino uno sport che negli anni è diventato una pietra angolare in Irpina. L'auspicio da parte degli organizzatori è che questa manifestazione possa essere da volano per altri, soprattutto dopo il grande successo ottenuto per la prima competizione.